La città di Berletta si onora di aver dato i Natali al padre della sinistra italiana, spentosi a Roma. All'età di 91 anni, lo storico partigiano, dirigente del Partito Comunista Italiano, direttore dell'Unità Alfredo Reiklin, figlio di Pietro ed Elisabetta Lauro, nato proprio nella città della disfida. All'età di 5 anni Reiklin si trasferì a Roma, dove il padre esercitò la professione d'avvocato. Nella capitale partecipò alla resistenza con le Brigate Garibaldi, facendo parte dei GAP. Fu tra i gappisti romani catturato nel 1944 dai fascisti. Nel 1946 si iscrisse al Partito Comunista Italiano, di cui fu uno dei dirigenti più importanti per circa 30 anni. Allievo di Palmiro Togliatti, fu vice segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana e nel 1955 entrò nell'Unità, di cui dopo un anno diventò vice direttore. Divenne anche segretario regionale del PC in Puglia. Fu molto attento alla questione meridionale, la quale dedicò anche alcune sue opere. Deputato nazionale fin dal 1968, durante gli anni 70, entrò nella direzione nazionale del partito e collaborò con Enrico Berlinguer. Successivamente fu favorevole alle trasformazioni del partito da PC in Partito Democratico della Sinistra prima, da PDS in Democratici di Sinistra poi, e infine da DS in Partito Democratico. Dal 1989 al 1992 fu ministro dell'Economia, del Governo Ombra, del Partito Comunista Italiano. Parole di cordoglio per la sua scomparsa espresse dal sindaco di Barletta Pasquale Cascella, che parla dell'eredità lasciata dal cittadino illustre. Un'eredità politica, un'eredità sociale, un'eredità culturale, è anche una di quelle eredità che danno conto delle trasformazioni di questo paese. I Reichlin, lo dice lo stesso cognome, non sono originari della nostra città, sono venuti nel momento in cui la terra pugliese diventava riferimento per la crescita, opportunità di crescita, di sviluppo economico. Da giovane era andato a studiare a Roma e da studente universitario, in collegamento con Pietro Ingrao, con Duccio Trombadori, aveva partecipato poi ai GAP, all'azione antifascista nella città, che costrinse i nazisti ad andare via. Quindi è stato anche un protagonista della costruzione dell'Italia repubblicana. E poi i ricordi di Cascella quando Reichlin era direttore dell'Unità? Ricordo che da direttore dell'Unità, un giorno che c'era, è stata la rivolta dei contadini qui a Berletta con il blocco della stazione ferroviaria. Mi chiese di venire giù per cercare di capire come potesse ancora sopravvivere uno spirito di rivolta rispetto a quelle che poi sono state delle conquiste del movimento operaio, che sarebbe dovuto tornare ancora perché era un impegno che si era assunto, insomma per rendere onore, come diceva lui, non ricevere l'onore, rendere onore alla città di Berletta che gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. A Berletta, oltre alla Cappella Gentilizia dedicata alla famiglia Reichlin, Parlander nel cimitero storico, porta il suo nome a un'intera palazzina in Viale Marconi, che oggi ospita gli uffici tecnici del Comune.